In un territorio di confine che non vorrà mai essere ai margini, l'opportunità di poter organizzare un'iniziativa di rilevanza nazionale nel momento in cui proprio viene disposta dal governo. Mi formo io all'ambizione di mettere insieme lavoratori, amministratori, la società civile, le imprese del nostro Paese e discutere sul merito delle decine di proposte che la CGL ha avanzato in questi anni. Noi abbiamo un'idea importante di cambiamento e di innovazione, vogliamo una pubblica amministrazione che vada a far diminuire le file, a far diminuire la burocrazia, vada a semplificare la vita a cittadini ed imprese. Di tutto questo nella riforma Madia non c'è nulla, bisogna avere il coraggio di andare ad intaccare le rendite di privilegio di troppi soggetti che hanno goduto in maniera intollerabile di condizioni di favore in questi anni. Usciamo dalla demagogia, usciamo dalle battute, confrontiamoci sul merito e io sono convinto che potremo tutti insieme trovare delle soluzioni condivise. Da una situazione così difficile non ci si salva con una battuta, non ci si salva con il silenzio, se si vuole provare ad uscirne bisogna provare a farlo tutti insieme e confrontarlo.